Una situazione nella quale, se questo continua, con un subinvestimento e con tutti gli insegnanti che diventano più vecchi, c'è un momento nel quale la qualità dell'educazione può essere meno di quella che è necessaria per essere nella concorrenza, nella modernità, nella produttività, eccetera, e anche perché i bisogni cambiano, se non abbiamo insegnanti più giovani non è soltanto una questione generazionale, c'è anche una questione di sostanza, di essere familiarizzati con tutte le questioni di innovazione, la questione della nuova rivoluzione industriale, la questione digitale, che questo naturalmente è molto più familiare, molto più facile, quasi genetico con i giovani e naturalmente non è il caso con i più vecchi.